Ben tornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Francesco Totti e Ilari Blasi ancora al centro delle polemiche, dopo la lotta per borse e orologi, è arrivato il momento dei figli Sembrano non essere ancora giunte a termine le infinite dispute tra Francesco Totti e Ilari Blasi. Il prossimo 20 settembre li attende un altro appuntamento in tribunale, dove affronteranno la prima udienza della causa per l'addebito di separazione Sono entrambi pronti a puntare il dito contro l'altro e a dimostrare che uno dei due ha tradito per primo Una storia infinita quella della conduttrice e dell'ex capitano della Roma Sul loro amore avrebbe scommesso chiunque, eppure qualcosa si è rotto e anche quella che sembrava la relazione perfetta è giunta a capolinea Ma, coinvolti nei loro giochi di ripicca e vendette, non ci sono solo loro due. La coppia ha tre splendidi figli, Christian, Chanel e Isabelle e questi sembra debbano diversi tra le due fazioni Nel frattempo, Francesco Totti si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza con la compagna Noemi Bocchi, mentre la Blasi si è presa ancora qualche giorno per stare con il partener Bastian Muller Entrambi sembrano aver voltato pagina e non si nascondono più Vacanze con i figli per Totti e Larry.Ilari Blasi si sta concedendo altri giorni di relax in una spa di lusso in Toscana Assieme a lei, chiaramente, anche il compagno Muller e non solo Infatti, con la neocoppia ci sono anche Chanel, il fidanzato Christian Babalus e la piccola Isabelle Una famiglia allargata, che sembra andare d'accordo e godere di momenti di spensieratezza, prima di tornare alla realtà Nel quadretto familiare, però, manca Christian Totti. Sul web, gli utenti si scatenano con allusioni di tutti i tipi e c'è chi arriva a scrivere, perfino, non vuole stare con la madre C'è anche chi parla di figli divisi, come se Christian non fosse abbastanza grande da scegliere con chi trascorrere le vacanze La verità su Christian Totti è che il giovane ha preferito rimanere a Ponza, con la sua fidanza Melissa Monti, suo padre e Noemi Questo non vuol dire che il primo genito di casa Totti preferisca il padre alla madre Tra lui e Hillary, infatti, non ci sono dissapori.Per quest'anno, ha semplicemente deciso di trascorrere le vacanze estive insieme a Francesco All'orizzonte, però, non c'è nessuna crisi tra lui e mamma Hillary Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao